La 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 Pippo proviamo? Sì, dunque io sto al guardaroba di un locale notturno e tu mi dici È passata mezzanotte e devo scappare a casa, mi dia la pelliccia per favore E lei si presenta adesso, ma le pellicce sono finite alle dieci e mezza E poi mi è venuta l'idea che mi prendo un caffè Lo sapevo Pippo prendi il tuo sao Oh, sao caffè Perché io per il caffè c'ho naso Sao caffè e ritrovi la parte migliore di te Uhum